Referit Mr. Michael Gallagher, Ireland Categoria 54 kg, angolo rosso, Nala Kiev, Depilin, Bulgaria Angolo blu, Alzarimo, Iduan, Russia Arbitro dell'incontro, il signor Michael Gallagher, Irrana Libero, 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 Libero Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 5.5-3 The winner is Red Book Cup Dalla Kiev Detelin, Bulgaria Ai punti per 5-3 Si aggiunga l'incontro l'angolo rosso Dalla Kiev Detelin, Bulgaria